Per Marina Lebedeva, co-fondatrice di Medina Art, partner di Eco Design Circle 4.0, mettere in pratica i principi dell'economia circolare e i processi dell'eco design ha un impatto positivo per le aziende e contribuisce a sensibilizzarle. L'eco design stesso, questi principi, queste tecnologie implicano un cambiamento di mentalità. Si comincia a pensare in modo diverso e quando si comincia a pensare in modo diverso si prendono decisioni in modo diverso e di conseguenza non si può più lavorare come si faceva prima. Non solo in Russia, anche in Europa è molto difficile spiegare a un'azienda perché dovrebbe spendere tempo e denaro per svilupparsi in questa direzione. Non diciamo che l'ecologia sia in contrasto con gli interessi economici dell'azienda, no. Diciamo che l'economia circolare ci dà l'opportunità di costruire processi di business che non danneggiano l'ambiente e che d'altra parte sono accettabili, utili ed economicamente vantaggiosi per le aziende. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS